Il Milan è una squadra che ha giocatori importanti perché Susa è un giocatore che è cresciuto molto, sono molto bravi, da una parte lui, da una parte buona avventura, sono giocatori che hanno tecnica, hanno corsa, hanno tiro, hanno assist, a metà campo è una squadra equilibrata perché Locatelli sta crescendo molto bene, gioca da veterano, Cuccia è un giocatore fisico, non so chi sarà l'altro centrocampista, però è una squadra, Palette è cresciuto molto, Romagnoli è cresciuto molto dall'inizio, è un giocatore di qualità, bene organizzato e quindi è sempre, oltre che essere sempre Juve Mila, è un quarto di finale da dentro e fuori, quindi bisogna giocarla come se fosse una finale.